Papa Francesco ha ricevuto nel Palazzo Apostolico il regista Martin Scorsese, sua moglie e le due figlie, insieme al produttore del film Silenzio e sua moglie. Gli ospiti erano accompagnati da Monsignore Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione. L'incontro, si legge nel comunicato della Sala Stampa Vaticana, è stato molto cordiale ed è durato circa 15 minuti. Il Papa ha raccontato ai presenti di aver letto Silenzio, il libro che ha ispirato l'ultimo film del regista. Ha quindi parlato della Semina dei Gesuiti in Giappone e del Museo dei 26 Martiri. Il regista ha donato al pontefice due quadri legati al tema dei cristiani nascosti, uno di questi raffigura un'immagine molto venerata della Madonna, opera di un artista giapponese del Settecento. Il Papa ha offerto agli ospiti alcuni rosari.